E' gelida, l'atmosfera allo stadium, i tifosi si preoccupano, dai che non è finita, forza, Evra, Pogba di tacco, bene, attacca l'area di rigore la Juve, punizione, si prosegue, Pogba, Evra la mette in mezzo, gol, 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 all'ultimo secondo di quadrato, si sbocca quadrato, la Vespa lo mette dentro, tutti impazziti allo stadium, Guad, Guilherme, quadrato, la Juve a vantaggio, Pogba gli salta addosso, Ventura se ne va, l'assunto esplode, la Juve guarda il derby, 2-1, il primo gol di Guad quadrato, punge la Vespa sul finale, punge la Vespa sul finale, punge la Vespa sul finale e fa tanto male, fa tantissimo male, 2-1 Juve, il gol sotto porta di quadrato, che libera la sua gioia sotto la sud, Juve 2, Toro 1, esplode anche Buffon, il presidente Agnelli, Marotta, Nelven e tutti voi da casa, primo gol con la magna bianconera di Juan Quadrado, c'è solo il tempo di battere adesso, ce l'abbiamo fatta anche stavolta, dai!